il vecchio mon gilet in ufficio mon gilet era considerato un tipo simpatico era un vecchio impiegato pacifico che era uscito da parigi soltanto una volta in vita sua erano gli ultimi giorni di luglio e ognuno di noi la domenica andava a rotolarsi sull'erba o a tuffarsi nell'acqua delle campagne dei dintorni asnier agentel chateau bougival maison poussi avevano i loro assidui e fanatici si discutevano appassionatamente i meriti e i vantaggi offerti da tutti questi luoghi celebri e deliziosi per gli impiegati parigini mon gilet dichiarava siete peggio dei montoni di panurge è bella la vostra campagna gli chiedevano ma voi mon gilet non fate mai una gita chiedo scusa io le gite le faccio in omnibus dopo aver ben mangiato senza affanne nel vinaglio qui sotto preparo il mio itinerario con una pianta di parigi e l'orario delle linee e delle coincidenze poi mi arrampico sull'imperiale apro l'ombrello e via di corsa oh ne vedo di cose io e più di voi sapete girò ogni quartiere è come se facesse un viaggio attraverso il mondo tanto la gente è diversa da una strada all'altra conosco la mia parigi meglio di chiunque altro e poi non c'è nulla di più divertente dei mezzanini quel che si può vedere là dentro con una sola occhiata è inimmaginabile si indovinano le scenate familiari soltanto a vedere il muso di un uomo che grida ci si diverte da matti passando davanti ai barbieri che piantano in asso la faccia insaponata del cliente per guardare nella strada si fa l'occhiolino alle modiste soltanto l'occhiolino per scherzo perché non si ha il tempo di scendere quante se ne vedono di cose e poi questo sì che è teatro di quello buono vero il teatro della vita visto al trotto di due cavalli per bacco non cambierei le mie gite in omnibus con le vostre stupide gite nei boschi gli proponevano provateci mon gilet venite una sola volta in campagna per provare ci sono stato rispondeva lui una volta venti anni fa e non mi ci prenderanno più raccontaci cosa successe mon gilet morentieri ecco come andò avete conosciuto boven quel vecchio impiegato che si chiamava boalò sì certo boven era il mio compagno d'ufficio quel burlone aveva una casa a colombe e mi invitava sempre ad andare a passarci una domenica mi diceva ma vieni maculotte mi chiamava maculotte per scherzare vedrai che bella passezzata faremo io mi lasciai abbindolare come uno sciocco e partì una mattina col treno delle otto arrivo in una specie di cittadina un paesotto dove non si vede nulla e finisco col trovare in fondo a un vicoletto tra due muri una vecchia porta di legno con un picchiotto di ferro picchiai attesi a lungo poi mi fu aperto cosa mi aprì a prima vista non lo capì una donna o una scimmia era vecchia brutta avvolta in vecchi strazzi pareva sporca e cattiva aveva tra i capelli piume di piccione e pareva che mi volesse divorare chiese cosa desiderate il signor boven cosa volete dal signor boven mi sentì a disagio di fronte all'interrogatorio di quella furia balbettai ma mi sta aspettando siete voi che venite per il pranzo continuò lei io balbettai un sì tremante allora voltandosi verso la casa gridò con voce rabbiosa boven ecco il tuo uomo era la moglie del mio amico il piccolo boven comparve subito sulla soglia di una specie di baracca di gesso coperta di zinco che rassomigliava a una stufa aveva un paio di calzoni di tela bianca pieni di macchie e un panama sudicio in testa dopo avermi stretto le mani mi condussa in quello che chiamava il suo giardino in fondo a un altro vicoletto chiuso da muri enormi c'era un quadratino di terra grande quanto un fazzoletto circondato da case così alte che il sole vi penetrava soltanto per due o tre ore al giorno violi garofani ravanelli alcuni rosai agonizzavano in fondo a quel pozzo senza aria e riscaldato come un forno dal riverbero dei tetti non ho alberi diceva boven ma i muri del vicino li sostituiscono tre ombre come in un bosco poi mi prese per un bottone della giacca e mi disse sottovoce mi vuoi fare un piacere hai visto la consorte non è molto gentile vero oggi poiché ti ho invitato mi ha dato della roba pulita ma se la macchio è finita contavo sul tuo aiuto per innaffiare le piante mi prestai mi tolsi la giacca mi rimboccai le maniche e cominciai a spingere con tutte le forze una specie di pompa che fischiava soffiava rantolava come un tubercolotico per lasciar scorrere un filo d'acqua simile a uno zampillo di una fontana wallace ci vollero dieci minuti per riempire un innaffiatoio io ero in un bagno di sudore boven mi guidava ecco in questa pianta ancora un po basta quest'altra adesso l'innaffiatoio bucato gocciolava e i miei piedi ricevevano più acqua dei fiori l'orlo dei miei pantaloni inzuppato si impregnava di fango venti volte ricominciai e mi bagnai i piedi e sudai facendo gemere il volante della pompa e quando volevo fermarmi estenuato boven supplichevole mi tirava per il braccio ancora un innaffiatoio uno solo e poi è finito per ringraziarmi mi fece dono di una rosa ma appena me la infilai nell'occhiello si sfogliò completamente lasciandomi come decorazione una peretta verdastra dura come una pietra ne fui stupito ma non dissi nulla la voce lontana della signora boven si fece sentire insomma vi decidete a venire quando vi si dice che è pronto ci avvicinammo verso la stufetta se il giardino si trovava all'ombra la casa invece era in pieno sole e la seconda stanza dell'ohamman dove essere certo meno calda della stanza da pranzo del mio compagno accanto a tre piatti su una tavola di regno giallo c'erano delle posate di stagno mal lavate nel mezzo un vassoio di terracotta conteneva un pezzo di manzo lesso riscaldato con un contorno di patate ci mettemmo a mangiare una grande caraffa piena d'acqua leggermente tinta di rosso richiamò la mia attenzione boven confuso disse alla moglie dimmi cara per l'occasione non potresti darci del vino puro lei lo squadrò irosamente perché vi ubriacchiate tutti e due vero e mi restiate a schiamazzare in casa tutta la giornata mille grazie della bella proposta lui tacque dopo la carne portò un altro piatto di patate cucinate con lardo quando anche quest'altro piatto fu terminato sempre in silenzio lei dichiarò è tutto ora filate via boven la guardava stupito ma il piccione il piccione che stavi spennando stamattina lei si posò le mani sui fianchi forse non vi è bastato portare della gente non è una buona ragione per divorare tutto quel che c'è in casa e che mangerò io stasera ci alziamo boven mi sussurrò all'orecchio aspetta un minuto e filiamo poi passò nella cucina dove era rientrata sua moglie e io sentì tesoro dammi venti soldi cosa vuoi farsi con venti soldi ma non si sa mai cosa può capitare è sempre bene avere qualche soldo in tasca lei urlò perché io la sentissi no non te li do visto che quel tizio ha mangiato a casa tua il meno che possa fare è pagarti le spesuccia della giornata boven tornò a prendermi e io poiché volevo essere educato mi inchinai davanti alla padrona di casa balbettando signora ringraziamenti gentile accoglienza lei rispose attento a voi non riportatemelo ubriaco perché avrete a che fare con me sappiatelo uscimmo dovemmo attraversare una pianura spoglia come una tavola in pieno sole voglio raccogliere una piantina lungo la strada e lanciai un grido di dolore la mano mi doleva spaventosamente le chiamano ortiche quelle erbe e poi c'era dappertutto un fetore di letame che faceva rivoltare lo stomaco boven mi diceva un po di pazienza tra poco arriviamo alla riva del fiume arrivammo infatti sulla riva del fiume là c'era puzza di merda e di acqua sporca e picchiava un sole così forte sull'acqua che ne avevo gli occhi abbacinati pregai boven di entrare in qualche trattoria mi fece entrare in un bucicattolo pieno di gente una taverna per marinai d'acqua dolce mi diceva non ha un bell'aspetto ma ci si sta molto bene avevo fame feci portare una frittata ma ecco che fin dal secondo bicchiere di vino quel disgraziato di boven perse completamente la testa e io capì allora perché sua moglie gli dava soltanto vino annacquato cominciò a concionare si alzò fece alcune smargiassate si intromese in una rissa tra due ubriachi che si picchiavano e saremmo stati accoppati tutti e due senza l'intervento del padrone lo tracinai via sorreggendolo come si sorreggono gli ubriachi fino al primo cespuglio dove lo feci distendere mi distesi anch'io al suo fianco devo essermi addormentato certo dovemmo dormire a lungo perché quando mi svegliai era notte boven russava al mio fianco lo scossi si alzò ma era ancora ubriaco un po' meno però nelle tenebre attraverso la campagna boven affermava di riuscire a ritrovare la strada mi fece voltare a sinistra poi a destra poi di nuovo a sinistra non si vedeva né cielo né terra e ci trovammo sperduti in mezzo a una foresta di paletti che ci arrivavano all'altezza del naso pare che fosse una vigna con i suoi pali di sostegno non c'era una luce all'orizzonte circolammo per un bel po' là dentro forse un'ora o due girando, vacillando, stendendo le braccia fuori di noi senza riuscire a trovare l'uscita perché probabilmente dovevamo tornare sempre sui nostri passi boven cadde su di un paletto che gli ferì la guancia e senza scomporsi rimase seduto per terra lanciando a squarciagola degli a me prolungati e rimbombanti mentre io gridavo aiuto con tutte le mie forze accendendo qualche fiammifero per orientare e illuminare i soccorritori e farmi coraggio alla fine un contadino che tornava a casa tardi ci sentì e ci rimise sulla buona strada condussi boven fino a casa mentre stavo per lasciarlo sulla soglia del suo giardino la porta si aprì improvvisamente e comparve la moglie con una candela in mano mi fece una paura terribile appena vide il marito che probabilmente stava aspettando dal calar del giorno urlò slanciandosi contro di me a canaglia sapevo che lo avreste riportato ubriaco quanto a me me ne scappai correndo fino alla stazione e poiché pensavo che la furia mi stesse inseguendo mi chiusi nei gabinetti poiché il treno sarebbe passato soltanto una mezz'ora più tardi ecco perché non mi sono mai ammogliato e perché non esco mai fuori di Parigi grazie a tutti